4 final eh si coperto movimento sul tronco e avvicinati più che puoi mano destra sempre davanti alla bocca bravo gary quel movimento ottimo dall'angolo troppa difesa troppa difesa sì ma c'è troppa differenza poi gary è anche bravo quindi sai è dura c'è la molto dura è lui c'è tanta differenza bravo ottimo col destro attento michael attento